ciao a tutti raga e benvenuti in questo nuovo video di minecraft dedicato al design in questo tutorial vi mostrerò passo dopo passo come realizzare le lettere dell'alfabeto sugli standardi in descrizione troverete tutte le parti del video cliccabili per ciascuna lettera in modo tale che possiate scegliere quella che più vi interessa tenete a mente che per il crafting di tutte le lettere ho usato il bianco e il nero ma ovviamente voi siete liberi di scegliere i colori che più preferite detto questo vi lascio al tutorial e vi auguro buona visione grazie a tutti 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 grazie a tutti